Ritorna alla Serie D sul rettangolo di gioco del Vincenzo Presti. Domani alle 15 il Gela affronterà il Lasser Sale nell'ambito della seconda giornata del campionato e il debutto dinanzi al proprio pubblico. La Lega ha concesso una deroga. Dal lunedì prossimo finalmente cominceranno i lavori. Giocare davanti ai propri tifosi e sul proprio campo è importante. I biancazzurri si presenteranno all'appuntamento di domani dopo il buon pari conseguito domenica scorsa a Pomigliano d'Arco. Un punto pesante per gli uomini di Pietro Infantino conquistato dopo giorni terribili a causa di una crisi societaria senza precedenti. Finalmente la burrasca è passata. Intanto nelle ultime ore la dirigenza presieduta da Francesco Duccio ha tesserato altri giocatori. Si tratta del difensore Gambuzza e degli esterni offensivi Kosovan e Bonanno. Tornando alla partita di domani bisogna tenere alta la concentrazione. Il sarsale battuto all'esordio domenica scorsa in casa dal Gladiator venderà cara la pelle. Nulla è scontato in questo campionato. Intanto ieri pomeriggio sono stati presentati gli imprenditori gelesi da anni residenti nel nord Italia in cui lavorano che hanno sposato il progetto Gela. Si tratta di Angelo Emanuele e Antonio Mendola. detengono il 40% del pacchetto societario bianca-azzurro, il 60% è della famiglia Tuccio. Hanno detto sia il Gela perché crediamo, hanno riferito, che le imprese debbano investire nel sociale e nello sport. Il gruppo Mendola entra in questa società. Con quale scopo, con quale obiettivo Mendola? Io devo ringraziare l'ingegner Tuccio la quale ci ha fatto entrare sulla diligenza col 40% perché abbiamo visto anche che alcuni imprenditori si sono fatti avanti però hanno individuato il nostro gruppo. Da lì noi abbiamo deciso di entrare perché essendo che siamo gelesi abbiamo dato una mano alla città di Gela. Il legale che ha rappresentato il gruppo Mendola durante le trattative, ossia l'avvocato Fabio Fargetta durante la conferenza stampa al Comune diceva appunto che questo gruppo pur non lavorando a Gela però ha sentito il cosiddetto senso di appartenenza che è un po' quello che in genere in questa città non solo nel calcio è mancato. Noi abbiamo deciso di entrare sul Gela Calcio perché siamo i gelesi essendo che siamo i gelesi però operiamo a nord Italia devo dire che praticamente noi in Gela non operiamo facciamo lavori fuori quindi sempre con i gelesi la passione è stata chiaramente perché in primis a noi il pallone piace e quindi abbiamo visto le difficoltà diciamo del Gela Calcio ci siamo portati avanti con la trattativa e da lì è nato diciamo il concordato. 40% come inizio 40% come punto d'arrivo? Volevamo prendere il titolo a pieno ritmo però questo non è possibile perché il gruppo ha deciso per il momento di essere diciamo in vetrina e verificare un attimo come vanno le cose con la dirigenza tutto lì diciamo il discorso. Per concludere tre fratelli però il vero calciofilo mi pare di capire proprio lei. Guardi io ho avuto da piccolo diciamo giocavo a calcio abbiamo vinto tutto il settore giovanile qua Gela ai tempi quando c'era la Juventina era in eccellenza non c'era una struttura adesso magari qualche struttura in più c'è poi ho fatto tutta la trafila dell'Icata Calcio ai tempi diciamo del professionismo ai tempi di Zeeman ho fatto tutto il settore giovanile da lì è nata anche la passione per entrare nel mondo del calcio diciamo a livello di dirigenza.